Siamo sempre qui al confine greco-macedone, la protesta dei migranti si è trasformata velocemente in un sit-in dove numerose persone, tra cui molti bambini, si sono sedute sulle rotaie e hanno deciso di non muoversi in protesta per la chiusura dei borders. I gridi sono molti, come sentite stanno chiedendo di poter entrare in Germania. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.